ciao a tutti e bentornati a uno stile di vita sano quanto spesso pensi ai tuoi valori di acido urico probabilmente mai forse qualche volta è importante invece che tu li tenga sotto controllo l'acido urico è il sottoprodotto che rimane dopo la digestione del cibo normalmente questo acido viene filtrato attraverso i reni se il corpo non è in grado di liberarsi di questo sottoprodotto allora si accumula nel sangue se non trattati alti valori di acido urico possono causare dolorose artriti gotta danni permanenti alle ossa e alle articolazioni pressione alta e malattia del fegato grasso ci sono alcuni cambiamenti nello stile di vita che puoi fare per abbassare i suoi livelli come perdere peso evitare lo zucchero evitare l'alcol e scegliere il giusto tipo di cibo banane latticini a basso contenuto di grassi olio d'oliva guarda fino alla fine per scoprire tutti gli alimenti che riducono efficacemente l'acido urico 1 frutta e verdura fresca alcuni alimenti contengono molta purina mentre altri ne contengono poca poiché il corpo produce la purina autonomamente non bisogna esagerare mangiando anche cibi che contengano alti livelli di questa sostanza frutta e verdura fresca senza zuccheri aggiunti sono un'ottima scelta per una dieta a basso contenuto di purine la vitamina c si trova in abbondanza nei prodotti freschi e aiuta a ridurre i livelli di acido mangi la tua giusta quota di frutta e verdura fresca ogni giorno diccelo nei commenti qui sotto 2 mele le mele sono una buona scelta se stai cercando di perdere peso proteggere la salute del cuore e abbassare il rischio di sviluppare il diabete questo frutto denso di nutrienti è versatile e può essere facilmente aggiunto alla tua dieta le mele contengono un composto speciale chiamato acido malico che neutralizza l'acido urico in eccesso nel flusso sanguigno le mele offrono un enorme sollievo ai pazienti che hanno a che fare con alti livelli di acido urico 3 fagioli pinto i fagioli pinto sono estremamente nutrienti contengono elementi sani come fibre e vitamine e minerali che aiutano a migliorare la glicemia e la salute del cuore questo abbassa naturalmente il contenuto di acido urico contengono anche acido folico che ha un effetto terapeutico sul corpo inibisce la produzione di acido urico e salva persino i reni dai danni renali legati all'acido urico sono poco costosi e facili da preparare quindi puoi aggiungerli facilmente alla tua dieta 4 olio d'oliva l'olio d'oliva è pieno di antiossidanti biologicamente attivi che riducono il rischio di sviluppare malattie croniche viene estratto dalle olive e si usa da molto tempo come un modo efficace per eliminare la gotta riducendo i livelli di acido urico cucinare il cibo in olio d'oliva spremuto a freddo allevia il tuo corpo dall'infiammazione mentre aumenta i livelli di antiossidanti 5 banana ricche di bontà e di potassio le banane sono a basso contenuto di purine e ad alto contenuto di vitamina c il manganese che contengono lascia la pelle luminosa e sana il potassio aiuta a migliorare la salute del cuore la pressione sanguigna e la digestione includere le banane insieme ad altri cibi a basso contenuto di purine abbasserà la qualità di acido urico e fermerà gli attacchi di gotta ricorrenti 6 lime i lime sono più amari e più scuri del normale limone giallo proprio come i limoni sono pieni di vitamina c e offrono una varietà di benefici per la salute ringiovaniscono la pelle migliorano la digestione combattono le infezioni e facilitano la perdita di peso la vitamina c agisce anche come un grande solvente per l'acido urico gli alimenti arricchiti di questa vitamina sono la soluzione perfetta per combattere gli alti livelli di acido urico 7 aceto di sidro di mele l'aceto di sidro di mele è composto da sidro di mele fermentato che recentemente ha guadagnato molta popolarità per le sue proprietà medicinali se hai un alto livello cronico di acido urico allora bere un bicchiere di acqua con un paio di gocce di aceto di sidro di mele due o tre volte al giorno disabiliterà la formazione di cristalli di acido urico tra le articolazioni 8 cibi ricchi di omega 3 questo acido grasso essenziale che non viene prodotto dal corpo aiuta a proteggere la membrana cellulare esterna è particolarmente buono per mantenere il cervello il cuore e la salute generale prevenendo lo sviluppo di malattie nel lungo termine i pesci grassi come il tonno lo sgombro e il salmone sono alcune delle migliori fonti naturali di omega 3 attivi questi alimenti giocano anche un ruolo importante nell'abbassare immediatamente l'infiammazione e il gonfiore 9 frutti di bosco se i frutti di bosco non fanno parte della tua dieta regolare questo è il momento migliore per farlo bacche come mirtilli lamponi e fragole contengono grandi quantità di vitamine minerali e naturalmente antiossidanti le bacche più scure inoltre sono particolarmente buone contengono alcuni minerali e una bontà naturale che abbassa l'acido urico un altro elemento che ferma la ricomparsa di altri valori dell'acido urico è la vitamina c prima di andare avanti chiediti hai mangiato la frutta giusta ecco alcuni dei migliori frutti che dovresti e non dovresti mangiare ora torniamo agli alimenti che abbassano efficacemente i livelli di acido urico 10 ciliegie la ciliegia è un frutto denso di nutrienti a basso contenuto calorico i composti bioattivi che si trovano nelle ciliegie includono tra gli altri potassio e carotenoidi che danno al frutto il suo colore rosso acceso e fibre sapevi che sono anche una fonte incredibile di serotonina è una sostanza chimica responsabile della felicità mangiare ciliegie abbassa il rischio di attacchi di gotta e la sua riacutizzazione riducendo l'acido urico 11 acqua l'acqua è la fonte della vita non è un segreto che bere otto bicchieri d'acqua al giorno ti mantiene attivo o attiva e rimuove tutte le tossine assorbe l'eccessiva quantità di acido urico nel sangue se stai avendo un aumento dei livelli di acido urico o hai una crisi allora dovresti raddoppiare il numero di bicchieri d'acqua in questo modo l'acido urico sarà facilmente eliminato l'acqua dissolve questo acido dannoso e ti mantiene anche idratato o idratata 12 latticini a basso contenuto di grassi scegliere prodotti lattiero caseari a basso contenuto di grassi rispetto a quelli che ne sono ricchi è un cambio salutare contengono meno calorie e colesterolo e sono pieni di calcio vitamine minerali e proteine non intasano le arterie come il latte intero scegliere il latte a basso contenuto di grassi nella tua prossima visita al bar ridurrà i livelli di acido urico e ostacolerà le dolorose crisi 13 cibi ricchi di vitamina c quando si pensa ai benefici per la salute del mangiare cibi ricchi di vitamina c viene in mente un migliore sistema immunitario ma non è così troppo acido urico nel corpo causa la gotta gli integratori di vitamina c o gli alimenti e la frutta ricchi di questo nutriente proteggono il corpo dallo sviluppo della gotta se già soffri di gotta allora mangiare cibi come arance pompelmo ananas e papaya ridurrà l'infiammazione 14 sedano il sedano è principalmente acqua non è uno degli alimenti più densi di nutrienti ma ai suoi benefici contiene vitamina k affolati fibre e potassio e aiuta nella perdita di peso nell'infiammazione e nella reidratazione i suoi semi hanno un composto naturale che è un elemento importante usato nel trattamento degli alti valori dell'acido urico riduce i livelli di acido ea anche proprietà antiossidanti 15 cetriolo i cetrioli sono altamente nutrienti e pieni di micronutrienti non solo sono spuntini deliziosamente sani da smangiucchiare ma sono anche efficaci nel ridurre la produzione di acido urico sintetizzandolo nel sangue hanno proprietà idratanti e aiutano a mantenere il peso ideale mentre disintossicano il corpo con i cetrioli non sbagli mai 16 patate le patate sono facili da fare versatili e poco costose sono anche sane la fibra ti fa sentire sazio o sazia più a lungo mentre abbassa il colesterolo e tiene sotto controllo lo zucchero nel sangue essendo a basso contenuto di purine e ad alto contenuto di vitamina c sono il cibo perfetto per ridurre rapidamente ed efficacemente l'acido urico mangiarle schiacciate o in purea con altre verdure sarà un ottimo cibo di aiuto nel trattamento della gotta 17 riso per ridurre l'acido urico scegli alimenti che abbiano più bassi indici glicemici l'umile riso che è un alimento amato in tutto il mondo può aiutare a ridurre i livelli di acido urico aiuta anche a prevenire la gotta questo ottimo cibo apporta una serie di benefici per la salute come l'abbassamento del colesterolo e la riduzione del rischio di sviluppare malattie cardiache 18 pollo a chi non piace un buon piatto di pollo è una carne magra e se mangiata occasionalmente può anche ridurre al minimo il rischio di gotta ricordati anche di mangiarlo nel modo giusto per eliminare qualsiasi pericolo questo significa non friggere o impanare il pollo puoi invece e grigliarlo arrostirlo o cuocerlo in camicia previene anche la formazione di cristalli acidi tra le articolazioni rendendolo un'aggiunta ideale ai tuoi pasti